Dottor Valentini, prefetto di Lecco, neoprefetto di Lecco, ha visitato tre comuni della Valsassina, come ha trovato Corte Nova prima luna in Trobio? Ho avuto la conferma di quello che ho visto finora, cioè di amministratori motivati da grandissima buona volontà, impegno, senso civico ed anche competenze, che sono quelle che contano, perché c'è una comunità che risponde benissimo, ma ovviamente deve essere sollecitata perché ci sono cose da fare e io penso che ci sia qui un'elite amministrativa capace, con tutti i limiti, purtroppo che si scontano di carenze di risorse, però capace di risolvere questi problemi. Valsassina è una ventina di comuni con 20.000 abitanti nel complesso, cosa ne dici? È una realtà ovviamente diversificata, io ne ho visitati la gran parte già di questi comuni, credo che ne manchino 5 o 6 e ho visto che nonostante l'omogeneità del territorio ci sono realtà diverse. Ho visitato Premana, che è una realtà produttiva stupefacente, considerato i processi che riguardano in tutta Italia, i paesi d'alta montagna, dove non c'è un'attività turistica sviluppata, sono sottoposti a processi di spopolamento e invece lì addirittura l'indice demografico va al contrario, e paesi anche molto vicini a quella realtà che invece scontano problemi completamente differenti. Quindi quello che bisogna fare è lavorare sul dialogo, i sindaci devono parlare fra loro, devono mettere in comune le esperienze.